C'è da dire che sicuramente questo gruppo che si è mostrato sempre molto hardcore secondo me andava appunto alleggerito bisognava dargli una melodia, da tempo lo dico che a lungo andare quel genere in un certo format poteva poi creare una perdita diciamo, una diminuzione di interesse e io credo che Manuel non sia poi così ha fatto delle scelte sbagliate in passato però non lo so se poi non è disposto a cambiare e mettere i Beatles è proprio l'emblema di quello che stavo dicendo e che lui sta seguendo come se ci seguisse assolutamente non sto giocando però secondo me questi ragazzi adesso stanno offrendo una dimensione anche diversa da quelli alla quale ci avevo abituato che comunque insomma va bene, lo sanno fare ma appunto secondo me il loro posto è fuori dal talent ed è in mezzo a una strada ed è locale comunque in ogni caso sicuramente anche giusto quello che ha detto Mika ovvero il fatto che comunque le loro voci non sono all'altezza dell'arrangiamento e del livello tecnico se fai il pop fino a che fanno rock'n'roll fanno quello che fanno loro allora sono all'altezza quando fai il pop ci sono regole diverse o provi a farlo i Beatles sono la band più pop che ci sia mai stata e loro secondo me comunque sono stati bravi perché non si sono troppo sfigurati e sono stati comunque loro stessi in questa nuova versione che è loro in relazione al talent che è ciò che la gente anche un po' vuole sentire